Le grandi Ferrari Formula 1 colleziona tutte le monoposto di Maranello in scala 1 a 24. Inedite riproduzioni, spettacolari in ogni dettaglio e ognuna con la propria teca da esposizione. Ordina subito su centauria.it per ricevere tutti i numeri della collezione e il fantastico regalo riservato agli abbonati. Riceverai le prime 6 uscite con uno sconto speciale e si aderisci all'offerta premium per te due esclusivi modelli. Cosa aspetti? Abbonati subito su centauria.it